O.K.O.K. 3 giorni abbiamo lavorato come non abbiamo mai lavorato in passato sia per i tempi di produzione e sia anche per la quadratura nel lavoro ci siamo qui per lavorare lo stiamo facendo ci svegliamo lavoriamo ci riposiamo lavoriamo andiamo a dormire non troppo tardi perché il giorno dopo ci svegliamo per lavorare ma guarda che te sto a fare altro che il chitarrista e niente si lavora non si dorme e niente posso messaggiare? certo ok ok ci siamo visti ci siamo isolati 3 giorni per fare questa seduta intensiva di produzione e sono stati giorni tosti ci stacca il popo il caffè fa ok ok il tema principale di questi brani è sicuramente l'inclusione l'inclusione sociale di quei ragazzi di quelle persone che si sentono un po' outsider esclusi non un po' diversi sbagliati quanto zucchero per il caffè ed è un nuovo inizio dopo comunque un periodo molto burrascoso ora stiamo facendo quel passo importante in avanti abbiamo già tra le mani molti progetti importanti molte cose importanti che dobbiamo fare quindi qua è il miglior modo di cominciare una bella full imagine in casa qui di Aria in campagna nel niente è un bello nell'erba nei prati nelle montagne siete pronti per rilasciare le vostre passioni questa sera è veramente giusta per fare peccato abbiamo portato diverse idee tutte con un obiettivo preciso che non possiamo ancora dire sono molto strutturate e diverse dal genere che facciamo di solito cioè hanno un'altra chiave hanno tutta un'altra chiave ok ok mi sento un po' travolto dalla voglia di creare cose secondo me c'è molta personalità cioè è molto difficile trovare dei ragazzi che soprattutto adesso hanno delle loro idee delle loro sensibilità e cercano di dare a loro una forma che ha poi una vera identità la prima cosa che ho visto con i falling sono stati degli obiettivi ben stabiliti ok ok e la fede ferma su quegli obiettivi a prescindere dal tragitto però ho visto che quegli obiettivi li raggiungono sono fomentatissimo le cose stanno uscendo alla grande siamo stra ispirati mamma mia ho ben scritto un testo con capolavoro ragazzi capolavoro per questo i capolavori nascono ad altri capolavori è quello che stanno concorrendo i ragazzi oltre l'inimmaginabile oltre oltre l'inimmaginabilissimo l'inimmaginabile capite ragazzi no difficile molto difficile molto stimolante e particolare perché non non eravamo mai arrivati al livello di scrivere qualcosa con l'obiettivo di farla stare in quella in quel post in quella zona lì diciamo ok ok è difficile perché avere dei paletti nel processo compositivo implica un sacco di rinunce un sacco di cose magari che prima non hai mai fatto è difficile però stanno uscendo grandi cose diverse da sempre però molto belle io vedo che comunque siamo siamo in linea cioè nel senso quello che ho potuto notare è che tra tutte le menti bene o male ci compensiamo cioè quello che dice uno poi piace all'altro chi mette le parti ci compensiamo a vicenda quindi sono contento di questa cosa perché è una cosa fondamentale in una band trovare la sintonia giusta questo team è formidabile è stato importante già creare una grande unione dopo il primo grande live che abbiamo fatto a Bucharest in Romania lì abbiamo capito che questo è il team giusto il team finale e infatti questi che sono i primi giorni compositivi insieme a loro con cui stiamo iniziando a creare roba insieme per la prima volta ci sta dando tantissimo Custizia San Rigor può essere un delizio troppo lungo penso a un unico obiettivo al fatto che la linea di basso fa parte dell'arrangiamento quindi non si tratta mai né di accompagnare né di improvvisare la mia parte contribuirà alla tua e da quella nasceranno tutte le caratteristiche che come posso dire definiscono quella sezione quindi io penso sempre un po' a quella che l'idea generale e che taglio gli voglio dare io ho un potere a livello musicale come tutti gli altri quindi decido in quel momento in che direzione far andare il tutto prospettive grandi non troppo lontane vorremmo pubblicare non poco materiale nel futuro prossimo diciamo ok ok più di quanto abbiamo fatto negli ultimi tre anni ma in molto meno tempo quindi diciamo la stessa è la salsata molto si sono tutti molto carini ragazzi cioè solitamente entrare in una band è sempre un po' difficile soprattutto perché hanno un loro modo di lavorare non sai se il tuo può essere opportuno invece in un modo o nell'altro mi sono sentita subito a casa non so se ero io quella vecchia o loro quindi è stata una sensazione incredibile Laura è magica Laura ha dato poco colore e timbro al groove del basso dei Falling Giant e quindi poi vabbè dato che Wichita è stato il momento questa formazione è lì proprio come se avessimo cominciato ora lì la nostra storia vera perché ora posso dire che sono nati i Falling Giant come gruppo hanno molto 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 potenziale soprattutto vedendo la precisione con cui suonano e registrano tipo Laura e Luca che hanno come ho detto ieri è il metronomo che va a tempo a loro quindi sono dell'idea che migliori sono i musicisti meglio le cose escono la musica per me è la vita e loro fanno parte di questa cosa piena io vorrei veramente continuare questa cosa all'infinito finché non muoio continuare a suonare con loro continuare a comprare canzoni con loro e vedere cosa cosa succede perché già mi sono rimasto troppo sorpreso troppo felice di quello che arriverà che si ascolterà che potremo ascoltare anche noi Simone e Nardoni mi stanno pagando bere alle 12 non lo so di a mezzo che a mezzo che a mezzo che alle 11 e mezzo di mattina mannaggia c'è esoterismo inteso mi distratto mannaggia no è una cosa la te vedo il tema il tema principale di questi brani di queste creazioni è la probabilità da parte dell'ascoltatore in questi giorni abbiamo lavorato sul tango della muerte che è il brano il primo brano davvero complesso di ricerca per i falling giant e abbiamo votato e sperimentato anche con i cori con i controcanti ascolterete ascolterete quindi veramente dei giorni super wonderful ok ok sempre viva allora pick up esottivi quindi penso ci staccherà la testa allora troppo